Luca, vieni qua a giocare col mappamondo, col papà? Eh? Qui però, vieni qua col papà, dai Bravo Quale mondo? Questo mondo? No, questo mondo è... No Sì, allora mi dici dove l'Italia, amore? No Perché? Qui Dove? Qui E la Sicilia dov'è? Qui Bravo E la Spagna? Qui E la Francia? Sì E questo cos'è il? Morocco Questa? Asia E questa? Il Pia Questo? Cidito E mi dici dove è il Madagascar? No, ci amo Dove è il Madagascar? Così? Ma amore... Vai, continua a girare, dov'è il Madagascar? Cos'è? Quella è una stella, dov'è il Madagascar? No Cos'è? È una stella quella lì? Mi dici? Dov'è il Madagascar? Qui Ah, allora lo conosce il Madagascar? Sì E questo qua sotto come si chiama? Come si chiama? Hawaii No, dove sono le Hawaii? Boh Dai, che lo sai, dove sono le Hawaii? Dai, dove erano prima? Dove erano le Hawaii? Trova le Hawaii Dove sono le Hawaii? Io le ho viste Dove sono le Hawaii? Dai Lì, bravo Sono qui le Hawaii Dai, non vedi questa isoletta piccolina? Vicino alla stella? Così E poi... E tutto questo cos'è? Aspetta No Vieni qua Tutto questo cos'è? Così Dai, amore, dimmelo Vieni qua Vieni qua Come si chiama tutto questo? Sì Come si chiama tutto questo? Le Hawaii Sì, le Hawaii le hai detto Ma questo qui come si chiama tutto questo? Eh? Come si chiama tutta questa? America E questo cos'è il? Canada Bravo E qui negli Stati Uniti? Sai chi c'è? Sì Barack Obama Barack Obama E dove è nato il Papa? Giù a Argentina Argentina E dove era l'Argentina? Qui Bravo, bravo Oppa già, Papa Appa già, Papa